Deve andare a concludere però in questa occasione Macchia ancora numero incredibile esce fuori c'è poco da raccontare questa sera se non lo spettacolo che Schio sta portando il palatagliate Sì, credo che fino adesso abbiamo fatto un davvero buon lavoro Il brisismo è stato molto difficile, abbiamo avuto molte pratiche, abbiamo fatto un buon lavoro Abbiamo già giocato due gioco nella Champions Quindi credo che possiamo essere satisfezati con questo periodo della season E ora dobbiamo andare avanti Cosa ti senti in questa prima parte della season? Mi sento bene L'ultima settimana ho avuto un pozzo di dolore Ma ora mi sento molto meglio Quindi spero che non torneremo ancora E niente Mi sento bene E spero che posso aiutare la squadra come l'anno scorso Sì, credo che la squadra per la squadra possiamo essere più forte Da che Cini è qui Siamo ovviamente molto meglio Abbiamo un altro giocatore Abbiamo bisogno di un giocatore Abbiamo bisogno di un giocatore Quindi spero che questo si può andare La squadra per la squadra possiamo essere un giocatore Ma dobbiamo lavorare Per sicuramente Cosa ci sono altre squadre? Cosa ti imprezzate? È una buona domanda Ho visto un paio di giocatori Nel giornalista Credo che un paio di squadre sono meglio Che l'anno scorso Per sicuramente Il nostro più grande obiettivo O nostro più grande obiettivo È Ragusa Questo è quello che credo E anche Credo che Luca è una buona squadra E anche Venese può essere buona Non ho visto Cagliari Ma se vedo il roster Credo che ci possono sorprendere A presto